Era l'11 ottobre del 99 quando l'ex campione di windsurf, Trentino Chico Forti, venne arrestato dalla polizia di Miami con l'accusa di omicidio di primo grado per la morte di Dale Pike. Sembrava uno scherzo del destino, un clamoroso errore giudiziario che si sarebbe risolto in fretta. Invece sono trascorsi 21 anni e Chico Forti si trova ancora in carcere in Florida. Al fine di continuare a pretendere giustizia sul suo caso in occasione della drammatica ricorrenza dei 21 anni di detenzione sono tre gli eventi in programma in provincia e uno a Roma. Si partirà sabato 10 ottobre dal Parco di Melta con l'edizione 2020 di Music Factory, kermess musicale organizzata da Anima Mundi Creativity Factory che sarà dedicata interamente alla campagna per la libertà di Chico. Il momento più significativo della manifestazione sabato alle 17.30 quando suo zio Gianni Forti porterà la sua testimonianza relativamente a questa lotta che da anni porta avanti. Gli appuntamenti continueranno sempre sabato 10 al granaio di nomi dove, nell'ambito della mostra collettiva di artisti quadrinomi che quest'anno ha accolto il tema dell'incontro, alle 20.30 ci sarà una serata dal titolo Tempo di incontrarti, dedicata proprio a Chico. Infine, domenica 11 ottobre sarà la città di Trento ad offrire un momento di ricordo per i 21 anni della detenzione di Chico nella centralissima piazza Santa Maria Maggiore alle 18.00. Interpretando lo spirito di Chico, questo momento di commemorazione avverrà nella forma di un concerto della band trentina The Blurred Shadows, composta da Alex e Mauro Boller, Claudio Frank Bosetti e Claudio Piffer. saranno due ore di puro rock con una scaletta pensata dalla band per evocare i principi di libertà e giustizia.